Parte una nuova era del basket pesarese. Andrea Valli, imprenditore e direttore amministrativo di Automotive STR, è il nuovo presidente della VL che chiude il sipario su 11 anni di presidenza di Ario Costa. Costa, che nell'assemblea del consorzio Pesaro Basket tenutasi ieri sera presso Alpitur, ha ratificato le dimissioni dall'attuale consiglio d'amministrazione al pari di Luciano Amadori, Fabrizio Malerba e Andrea Rombaldoni. Contestualmente l'assemblea dei consorziati ha individuato con voto unanime il gruppo di imprenditori e dirigenti che siederanno nel nuovo CDA al fianco di Andrea Valli. Vale a dire Roberto Rovere di BRX e Tommaso Bertini di Edenviaggi, oltre ai riconfermati Nicola Dolci e Franco Arceci. Valli entrò nel consorzio Pesaro Basket nell'estate 2022 con Automotive STR che è azienda con 98 milioni di euro di fatturato dedicata a progettazione di componenti e accessori del lusso automobilistico. Da Valli al presidente del consorzio Arceci la ferma intenzione di mettersi subito al lavoro per riportare Pesaro nella massima serie del basket. Da oggi dobbiamo riboccarci le maniche per rilanciarci, per tornare presto in uno più forti di prima. Io sono certo che sapremo lavorare per avere il massimo di supporto e anche di unità, non solo da parte dei consortiati e degli sponsor, ma della città, delle istituzioni e del nostro grandissimo pubblico. Grazie. Grazie.